Mi trovo a Perito, sto per incontrare il consigliere comunale, anche componente della Proloco, Antonello Marcelli, il quale traccia un bilancio della prima edizione dell'estemporanea di pittura dedicata al compianto Andrea Celano, tenutasi qui durante la giornata di domenica 8 settembre. Allora, un bilancio della prima edizione e chi sono stati i vincitori e la partecipazione a questo premio, che è stata la prima edizione però è una puntata a zero, l'anno prossimo sarà ancora di più partecipato un po' anche da diversi artisti, non solo del territorio. Sì, innanzitutto dico che è stata comunque una prima edizione positiva perché abbiamo avuto diversi artisti, sia professionisti sia amatoriali, che hanno aderito a questa nostra iniziativa, che era appunto dedicare un'estemporanea d'arte all'amico Andrea Celano, che purtroppo ci ha lasciati nel 2017. E quindi è stata una bella giornata in ricordo di Andrea, in promozione dell'arte. Ovviamente la sera di giornata è stata poi animata anche dai bambini, c'era una categoria speciale per loro. E quindi è stata davvero una bella esperienza, che andrà ripetuta il prossimo anno sicuramente, ovviamente va migliorata perché è una manifestazione sulla quale puntiamo, speriamo possa crescere ogni anno di più, sia per mantenere il ricordo di Andrea, sia per una promozione sul territorio dell'arte che c'è qui a Perì. I partecipanti, non tanto il numero, da quale zona hanno afferito qui appunto a Perì? Allora, ci sono stati sia degli artisti locali, quindi del Cilento, e una buona rappresentanza anche dalla città di Salerno, perché Andrea appunto aveva insegnato diversi anni a Vietri sul mare, e quindi era una persona conosciuta, e quindi il suo ricordo lì era ancora vivo, e quindi molti hanno aderito a questa manifestazione e sono venuti qui a trovarci. Il vincitore, diciamo, quest'anno chi è stato? Il vincitore della prima edizione è stato Giuseppe Ruggiero, che è un artista non professionista, però di perito, quindi abbiamo avuto la vittoria in casa per la prima edizione, quindi questo ha reso contenti davvero tutti.